E' Carmine Galasso della delegazione Batsvevia il vincitore della seconda edizione del concorso Miglior Sommelier del Nero di Troia, organizzato dall'Associazione Italiana Sommelier Puglia in collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e il Comune di Margherita di Savoia presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore a Indirizzo Alberghiero Aldo Moro. Nella prima edizione tenutasi nel 2018 il titolo fu conquistato dal molisano Carlo Pagano. E' un vitigno storico della mia terra, appunto siamo nella Svevia, nel Castello Svevo, nel Castello del Monte quindi per me è stato un grande onore rappresentare questo vino, più che altro raccontare questo vino. Dopo la prova scritta sulle origini, la storia, le caratteristiche uniche del vitigno e del territorio spazio alla pratica che ha visto i quattro semifinalisti misurarsi sulle capacità di servizio e di racconto del Nero di Troia. Duello per i finalisti a suon di degustazione e comunicazione. Un banco di prova importante per i sommelier provenienti da diverse regioni italiane che grazie a questi concorsi diventano ambasciatori dei territori. La squadra concorsi nazionale di cui ne fa parte un nostro corregionale Antonio Riontino sta iniziando in questo periodo a programmare tutti i concorsi nelle varie regioni e in Puglia ne faremo altri oltre che questo, ma è importante perché è un allenamento per i nostri giovani sommelier. A chiudere la giornata, la degustazione è aperta al pubblico presso l'Oasy Beach nella città del Sale nella quale le etichette presenti con rossi, rosati e bianchi da Nero di Troia sono state raccontate dai sommelierais e proposte in abbinamento a piatti del territorio. Il Nero di Troia è il vitigno principe del nostro territorio e per noi è veramente motivo di orgoglio anche perché appunto negli ultimi anni i produttori stessi si sono evoluti hanno cercato di migliorare e stanno cercando di migliorare sempre più questo vitigno di perfezionarlo.